Ciao a tutti ragazzi, qui è BluLightTab Benvenuti oggi in questo nuovo video Oggi sono qui in questo nuovo episodio di Minecraft Vanilla Allora ragazzi, nello scorso episodio Abbiamo cercato di prendere una seddle Con la canna da pesca, però non ci siamo riusciti Poi avevo bisogno Dei diamanti per fare un enchanting table Però naturalmente, dopo ore e ore di grotta Naturalmente non l'ho trovato Quindi sono andato off camera In una grotta E ho trovato questo canyon Dove c'era solo lava Cioè il pavimento era lava E ho iniziato a mettere acqua a stecca Facendo l'ossidiana, questo canyon è diventato Tutto appunto ossidiana E poi nella distanza Laggiù vedo Dei cosetti azzurrini E ho visto che erano diamanti Infatti ho fatto anche la foto, l'ho messo sul gruppo Telegram E su Instagram, quindi se non mi seguite Su Telegram e Instagram, fatelo Ora ragazzi, in questo episodio Dato che abbiamo i nostri diamanti, possiamo fare Un enchanting table, però non ho libri E quindi li andiamo a rubare Dai nostri cari villager Ci rubiamo questi e poi andiamo anche nell'altro villaggio Mentre faccio tutto ciò Vi volevo parlare di due cose Uno Mercoledì scorso è finito Cube Survival Quindi in teoria Il prossimo mercoledì Cioè dopo domani Ci sarà una nuova serie E come ho scritto sempre sul gruppo Telegram Non siete pronti a questa nuova serie E forse un ritorno Piccoli spoiler Piccoli spoiler Allora quindi Mercoledì ci sarà una nuova serie Che è un gioco Che a me piace tantissimo Ora vi sto spoilerando troppo Quindi mercoledì nuova serie Poi A breve Nel più breve tempo possibile Vi carico anche il montaggio di 1000 iscritti L'ho finito Sto facendo gli ultimi dettagli Proprio Abbiate pazienza Forse in settimana lo carico Non lo so Ci devo pensare Ma se lo ho 42 Vabbè sì Ok tutto è 42 in faccia Quindi Devo farmare un sacco di pelle Però In teoria Io ho un'ottima farm di mucche Anche se non è automatica per il momento Però c'è tanta gente Il problema forse sono le canne da zucchero Vabbè Vabbè Dopo anni e anni di farm Questo è tutto ciò che sono riuscito A prendere Uno stack di libri Uno stack di carta 23 pezzi di pelle E poi adesso andiamo a craftare Gli altri libri E le librerie Quindi prendiamo così 21 Ok Prendiamo questi 21 libri E poi me ne serve uno per l'enchant in table Che culo Un pezzo di pelle in più GG GG Allora mettiamo l'ossidio Mettiamo i diamanti Ok Enchant in table Mi aspettavo i fuochi d'artificio Come il moddato Non so perché Però Me l'aspettavo Li volevo Allora Andiamo a mettere I libri E poi Il legno Quindi 10 Librerie A posto Poi faccio così Faccio di questo Oui Oui Allora 28 librerie Uh 28 librerie È tantissimo Quindi vediamo un po' Allora Allora Le mettiamo qua giù Per le tess No Poi Dato che Se io tipo Le metto qua Chiudo E diventa tutto carino Però Poi rimane lo spazio di qua Quindi bisogna fare di questo Sì 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 Quelle non le prende A posto Quindi le devo spostare di qua Devo mettere Ok Ok Quindi ora Se faccio di questo E di questo Tu mi dai 30 livelli A posto Ne ho risparmiate anche 8 Ora In la casa bella È che Devo Incantare La canna da pesca Devo incantare la canna da pesca Solo che questa sta già a metà Quindi ne crafto una nuova Ne crafto una nuova Però Guardate un po' Quanti livelli ho 29 29 E tre quarti Ok Sì lo so Ho fatto un'altra canna da pesca Però Cioè Unbreaking 3 Mi ispira su questa Quindi No No La metto su quella No Lo faccio Non mi pento Lo faccio Non mi pento Tutte le speranze Le butto tutte Non voglio vedere Ah No Non ci credo Mamma mia che entra L'urro 1 L'urro 1 Sono tornato Porca troia Allora Dato che Qua abbiamo detto C'è l'urro 1 Ho preso un libero E adesso lo incantiamo Con Efficiency 4 Deathstrider 1 Knockback Ma Deathstrider è buono Sì Però prendiamo Efficiency 4 Ora riproviamo Pam Lack of the sea Lack of the sea Unbreaking L'urro 2 E dici che uno Deve Stimere tutti i santi Ma Cristo Dio L'urro 2 E l'urro 2 Lack of the sea 2 Vabbè Poi verrà giunta Si uniscono Da di loro Fanno delle cose zozze E uscirà la canna Da pesca della vita Finalmente Ce l'abbiamo fatta E ora È il momento ragazzi È giunto il momento Di pescare Una minchia di sette Perché naturalmente In grotta Non trovo mai Una fresca di dungeon E quindi L'unica possibilità È questa Pescare Insomma C'è un po' paura In giro Ma se pesco la mucca È male Non ci credo No No vabbè Non ci credo No 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 Vabbè Fa il terzo tentativo No vabbè Ci ho messo le ore Per fare tutto ciò Però Ce l'ho fatta Non ci credo Non ci so credere C'è il mio C'è il mio I miei erano tentativi Io non volevo Realmente una seddle Perché sapevo Che non usciva mai Mi è uscita Devo prendere Un mulo Subito Mu Mucche Mu Vache Mu Mulo Mu Dove sei Mu Mu Non prendiamo i cavalli I cavalli li prenderemo Più in là Quando pescherò nuovamente Una seddle Sono tipo Un bimbo felice Vorrei ringraziare i miei genitori Mi sono sempre stati vicini Fairy Fox Pippo James Boldo E chi più ne ha Più ne ha Non ho capito Allora quindi Andiamo dal nostro mulo Che dovrebbe stare là dietro Tipo Si sono dritti al villaggio Mi ricordo quel video Dove non ricordavo più niente Perché avevo trovate troppe cose Troppe cose Allora vediamo un po' Mu mu Mulo Mu Eccolo Eccolo Datemelo Datemelo Allora tu c'è un cuore in più Tu Fai cagare Tu Fai schifo E tu Fai pena Bene C'è solo un tipo Che c'ha un cuore in più Lui Saremo amichetti Sì sì Oh Stupido Siamo amici Stiamo friando No eh Ti piacciono proprio i cuoricini Fai i cuoricini Ah Ah e Yes No vabbè Eh Oddio Oddio Non ce la posso fare No vabbè Non ce la posso fare Ah Sì però Non morì qua Ma se tipo pesco No eh Volevo fare una cosa epica No Non ci sono riuscito Oh bello Cavallo bianco Sto col mio Mulo È tutto È tutto tranquillo Va bene Asinello Tranquillo Passiamo in mezzo a questi alberi di merda Ci passiamo Vedo Vedo casa laggiù Adesso ti dovrò fare una stalla Sei contento Forse l'episodio prossimo è solo su di te Probabile E quindi No non è vero No non posso fare l'autore così E quindi Cioè ti ti da No no Scherzo Ossa Quanto salti Fai un po' schifo Le salti le penso Sei serio? Ah vabbè Eh 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 Ok Riuscivo a saltare Ammazza le vostre frecce Oh grazie Allora per adesso Ti metto in casa Proprio così Ti devo far vedere a tutti Che ho un mulo Yeee Sei dentro Fratello asino Non sei felicissimo Sei dentro con me Eh Eh dai Un po' di felicitazione Eh andiamo Eh bravo Si però dammi la roba dei cesto Ah stupido Ma è Ma è la roba Grande Vai fai quello che ti pare Basta Vabbè se vai giù vai giù Basta che non fai la cacca sul letto Ecco No sul letto Ti ho detto Eh dai Ci dormo E quindi ragazzi Per questo video È tutto Spero vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare un mi piace Perché è un draco Vi ricordo di lasciare un mi piace Di commentare Di condividere questo video E se non lo avete ancora fatto Iscrivervi al canale Pagina facebook in descrizione Instagram in descrizione Telegram in descrizione Instagram in descrizione Quindi Ciao a tutti da Bluelike Ciao a tutti Ciao 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 Ciao